Chi mi segue su YouTube lo sa, ho sempre cercato di esprimere tutti i miei concetti e tutte le mie considerazioni per quanto riguarda il calcio, il mondo del calcio in generale, nel modo più possibile, imparziale e sportivo e direi di esserci riuscito anche abbastanza bene. Questo video però lo voglio fare da tifoso, voglio farlo da amante del calcio ma da tifoso juventino e quindi non lo caricherò sul mio canale YouTube ma lo caricherò sulla mia pagina Facebook e anzi, se siete d'accordo o comunque non siete d'accordo, vi invito a scrivermi qui sotto un commento e comunque a condividere questo video sulle vostre baccheche, a consigliarlo anche ai vostri amici e magari far nascere veramente un argomento di discussione per arrivare a capire in maniera matura, sempre matura e rispettosa perché ognuno ha le sue idee, ognuno ha le sue considerazioni e ognuno deve esprimerle giustamente in maniera pacata e pacifica tutto quello che concerne all'esultanza, non esultanza, del signore qui dietro di me. Ho deciso di mettere questo poster, cioè questo poster ce l'avevo già, ho deciso di fare il video proprio davanti a questo poster perché voglio parlare proprio del PPT Wayne che ieri sera ha risolto con un grandissimo gol una partita non facile, non giocata bene dalla Juventus, l'ennesima partita giocata sotto tono per quanto riguarda la formazione bianconera e una bella partita da parte del Napoli volendo perché il Napoli è sempre stato propositivo, il Napoli ha sempre spinto e il Napoli ha sempre cercato anche di attaccare. Certo che la Juve quando non gioca bene ha la fortuna, e non è una fortuna perché comunque è un valore aggiunto della squadra se non è il reparto più forte di avere una difesa quasi impenetrabile tranne in occasione del gol di Caillon che ce lo siamo praticamente persi ma sappiamo benissimo che lo spagnolo è abilissimo nei tagli. Higuain ha fatto gol, il gol del 2-1, il gol decisivo, il gol vittorio e il gol dei tre punti. Non ha esultato. Per rispetto. E ci può stare. Ci può stare benissimo che Higuain non abbia esultato. La cosa che mi dà veramente fastidio è che quando ieri sera ho fatto la diretta sul canale YouTube in tanti mi abbiano scritto è certo che non ha esultato. Che cosa ti aspettavi? Che esultasse al Napoli? Sì, me lo aspettavo. Perché il signor Gonzalo Higuain è sì un ex giocatore del Napoli in cui ha giocato per tre, quattro stagioni al massimo comunque non è stata una bandiera. Non è Amsic. Amsic è il capitano del Napoli bandiera del Napoli. Non è Maradona che sì, è considerata bandiera del Napoli e addirittura Maradona ha fatto un video a mio parere imbarazzante perché se devi parlare del Napoli pari del Napoli, non pari della Juventus. Higuain adesso è un giocatore della Juventus se Higuain con il Napoli andava a giocare a Madrid e faceva gol, non esultava perché è stato un ex giocatore del Real Madrid stessa cosa magari con il con il River Plate non esultava a un gol perché Higuain in questo momento è un giocatore della Juventus un attaccante della Juventus forse è l'attaccante più forte che la Juventus perché Di Balla quest'anno sembra meno punta rispetto agli altri anni quindi Higuain si è fatto carico si è fatto pressione, si è preso in spalla la squadra perché se non fa gol questo signore qua noi facciamo fatica ad ingranare l'abbiamo visto contro il Milan, non ha mai toccato il pallone abbiamo perso una zero, sono andati a casa pagato a peso d'oro pagato proprio a peso d'oro dato che si è tanto ironizzato sul fatto che fosse fuori forma sul fatto che fosse ciccione che avesse la pancia e quindi un milione al chilo perché pesa 90 kg divertenti come cose, ci stanno e il classico sfottò quando è iniziato a fare gol poi ecco la Juventus ha ammazzato il campionato e qui e là, appena smesso di fare gol ecco la Juventus ha comprato Iguain a 90 milioni non è stato un flop quindi la Juventus ha speso dei bei soldini per accappararsi le prestazioni di questo giocatore che effettivamente adesso è un giocatore della Juventus non stiamo parlando di Del Piero non stiamo parlando di Maldini non stiamo parlando di Zanetti non stiamo parlando di Totti stiamo parlando di un giocatore fortissimo che ha fatto la differenza nel Napoli che ha stabilito il record storico di marcatura in Serie A con la maglia del Napoli solamente 365 giorni fa o comunque la stagione precedente ma che tuttora è un giocatore della Juventus io sinceramente mi aspettavo un'esultanza da parte di Iguain perché tra l'altro sei un attaccante il gol è la cosa che ti fa vivere praticamente e Iguain era secco da qualche partita quindi io l'esultanza da parte di Iguain a un suo eventuale gol me la sarei aspettata ha deciso di non esultare ci sta il rispetto per Iguain a quanto pare è una cosa molto più elevata dato che in tantissimi l'hanno cosiddetto di essere traditore di essere mercenario di essere irrispettoso di aver sputato sulla maglia del Napoli lui ha semplicemente deciso di cambiare realtà di cambiare società da professionista qual è? qual è? non ha mai insultato Napoli non ha mai parlato male di Napoli ieri sera ha giocato contro Napoli perché giustamente è un calciatore della Juventus e deve giocare le partite contro anche le sue ex squadre senza avere paura senza avere timore di nessuna cosa dovremmo essere un popolo civile non dovrebbe succedere niente però al gol di Iguain in tantissimi prima l'hanno insultato dicendogli è un uomo di merda perché è andato a giocare a Torino e va bene ci sta anche questo fa parte del calcio ma il fatto che foste così sicuri fosse così scontato una sua non esultanza al suo gol per me è pazzesco perché ripeto Iguain è un calciatore è un attaccante a secco tra l'altro da diverse partite si sblocca ritrova il gol ritrova il gol vittoria in una partita così importante in un big match se avesse esultato non ci sarebbe stato nulla di scandaloso e clamoroso non è che esultando prende tutto quello che è stato Napoli nella sua vita lo mette a parte e ci sputa sopra assolutamente no è un professionista non è un tifoso del Napoli è un calciatore che ha deciso di fare un cambiamento importante nella sua carriera perché ha quasi 30 anni va a giocare in una squadra sulla carta più competitiva su una carta più vincente e questo è un dato di fatto ragazzi parlano i numeri di quello che è il Napoli degli ultimi anni e quindi non c'è niente di pazzesco tra l'altro la Juventus ha dato 90 milioni per aggiudicarsi le prestazioni sportive di questo calciatore e quindi mi sembra veramente pazzesco andare a parlare di furto andare a parlare di aver ucciso il campionato andare a parlare di Higuain che non doveva giocare Higuain che non doveva esultare veramente certe cose secondo me lasciano il tempo che trovano di Higuain di Higuain di Higuain